Oggi dobbiamo assolutamente vincere, sarà importante partire bene, loro oggi non hanno niente da perdere, verranno qui per iniziare forte, punto senza pressione, dovremo essere bravi all'inizio a controllare la loro prima ondata, gestire bene in difesa e provare a vincere questa partita fondamentale per avvicinarci ad Avellino. 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 Inaspettata anche per come si era concluso il secondo quarto, eravamo andati a riposo con un buon vantaggio, sembrava tutto messo per il secondo quarto. il meglio. In una stagione lunga, complessa, con tanti impegni ci sta, ripartiamo per mercoledì sera. Speriamo sia un episodio che mercoledì si riprenda la corsa e che questo sia soltanto un p-stop e i box e poi si possa ripartire. Non ho mai pensato di riuscire a giocare così, qui contro una squadra di alto livello come era Fiat. Invece abbiamo interpretato la partita molto bene subito all'inizio, poi abbiamo fatto molta fatica, siamo stati incollati anche quando veramente la partita poteva girare dalla parte opposta e poi siamo usciti alla grande, trascinati da Nick Moore sicuramente in attacco nell'ultimo quarto, però la prova collettiva difensiva della squadra è stata di altissimo livello. Loro hanno un talento enorme, secondo me lo dico veramente, anche in panchina, molte soluzioni e quindi bisogna stare sempre concentrati, appena li perdi fanno canestro, è molto difficile dal punto di vista difensivo e siamo stati molto bravi a capire che la chiave poteva essere solo lì e non come magari in alcuni momenti, frazioni di partita non doveva essere quello di sfidarli a campo aperto o in attacco perché chiaramente loro sono più forti di noi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!